Delusione, sollievo, consapevolezza. Hai scelto queste tre parole per descrivere il Gran Premio del Belgio nel consueto messaggio alla squadra. Perché? Perché credo che rappresentino la sintesi di quello che abbiamo vissuto ieri. La delusione da un punto di vista sportivo, per non aver portato a casa un risultato che era alla nostra portata. È chiaro che oggi saremo qui a commentare, credo, probabilmente un divario sui nostri principali avversari che invece che diminuire sarebbe probabilmente aumentato, vedendo come si è svolta la gara. Sollievo per aver visto che, considerando proprio quello che è successo, poteva essere davvero una situazione veramente molto brutta. E quindi il sollievo di vedere un Fernando che non ha avuto nessun tipo di conseguenza nell'impatto che la sua vettura ha dovuto subire. E la consapevolezza che dobbiamo voltare pagina da subito per essere concentrati, per guardare al futuro del campionato. E la consapevolezza che, come abbiamo sempre detto, il nostro futuro dipende da noi stessi, dalla capacità di essere competitivi, dalla capacità di mettere in pista una macchina ogni volta migliore, perché sappiamo, e l'abbiamo detto da un po' di tempo, che la nostra non lo è ancora. Quindi questo deve essere l'obiettivo di tutta la gente che lavora a Maranello. La consapevolezza che, però, ripeto, quest'anno siamo in gioco e dobbiamo giocare fino in fondo. Sul piatto dei più della bilancia del Gran Premio del Belgio c'è la prestazione di domenica di Felipe. Come hai visto il pilota brasiliano? No, sono molto contento perché noi abbiamo bisogno di un Felipe combattivo, che porti dei punti a lui come pilota, ma anche ovviamente alla squadra. E quindi averlo visto reagire dopo una giornata come quella di sabato, dove purtroppo non era andato bene, mi fa ben sperare, per quanto riguarda già la prossima gara e per quanto riguarda il futuro di questo campionato. Fernando è tornato a Maranello insieme alla squadra. Come lo hai visto all'indomani dell'incidente? L'ho visto bene. La prima cosa che ovviamente gli abbiamo chiesto era come si sentisse. Non ha nessun tipo di problema. È in forma, è concentrato, motivato per domenica. E il team? La reazione? Il team l'ho visto bene. È chiaro, ieri tornando in aereo insieme, un po' di amarezza c'era. Però, ripeto, dobbiamo girare pagina, guardare avanti. Da oggi mi sembra già di vedere la gente tutta concentrata, giustamente, sul Gran Premio che viene domenica. In circostanze come questa, è un bene poter tornare subito in pista? Sì, credo che il fatto di non aspettare una settimana in più sia importante. C'è la voglia di reagire. C'è anche qui la consapevolezza che i nostri avversari sono molto forti, ma vogliamo metterci alla prova per vedere il lavoro dei nostri tecnici, dove è portata la macchina a livello di sviluppo, quindi assolutamente sì. Adesso c'è appunto Monza. È una gara speciale o è una delle 20 puntate del film iridato? Ma direi che rappresenta entrambi Monza. Una gara speciale da un certo punto di vista, ma i punti che prendi a Monza valgono esattamente quelli che prendi sugli altri Gran Premi in ottica mondiale. Quindi ci sarà un mix di queste due situazioni domenica. L'entusiasmo dei tifosi può dare uno o due cavalli in più? Ma credo anche di più. I piloti sentono i tifosi in macchina, li vedono tifare, li vedono con le bandiere, con il rosso intorno alle curve, nei rettilinei. È una bella atmosfera e quindi sta a noi cercare di fare il massimo per renderli ancora più felici. Proprio parlando di Monza dal punto di vista tecnico, ci saranno delle novità sulla vettura? Ma come sempre Monza rappresenta una gara dove si sceglie una configurazione aerodinamica che serve solo per Monza e quindi abbiamo lavorato su questo, così come avranno lavorato i nostri principali avversari. Vediamo dove saremo rispetto agli altri. Non te la senti di fare un pronostico? No, pronostici non li voglio fare. Io ribadisco che per noi sarebbe importante tornare a punti importanti per Fernando da subito a Monza e poi tutto quello che viene di positivo lo portiamo a casa.